Sono ovviamente molto contenta che in tantissimi la maggioranza di voi sa che cos'è un focal point, principalmente questo perché se lavorate nel settore, se vi interessa la vetrinistica, il visual merchandising, sapete che cos'è un focal point. Diverso invece è l'approccio sul focal point spostato, quindi adesso vi racconto un po' sia che cos'è di base un focal point e sia come si fa e se si può spostarlo dall'area che noi consideriamo basica. Il focal point della vetrina è la parte della vetrina, la zona che viene visualizzata maggiormente dall'utente ed è vero c'è una forma naturale di attenzione che viene dedicata ad una certa area, non troppo bassa, non troppo alta, che è considerata spesso centrale. Ma questo non è universale e non è sempre così, soprattutto conoscendo quali sono le dinamiche per spostare l'attenzione del cliente si possono creare focal point decentrati, quindi spostati rispetto a quello che si considera l'area principale. Adesso vi faccio vedere qualche esempio fotografico così da spiegarvi al meglio che cosa intendo. Iniziamo con un focal point super base da manuale e Armani in questo ci viene in soccorso perché lui è il numero uno di questo genere di cosa. Vetrina vuota intorno, simmetrica, centrale il pezzo, il prodotto che voglio proporre e l'accessorio sotto, semplice così. Altro esempio super basico in questo caso di focal point decentrato, quindi uno schema asimmetrico dove da un lato ho il props, quindi l'oggetto scenico, che riempie lo spazio e che mi fa capire che lì non c'è niente da vedere ma è solo ambientazione, mentre sul lato opposto ho il prodotto, anzi i prodotti in questo caso, perché ci sono i manichini che sono con degli outfit completi, per cui la mia attenzione viene spostata su quello che mi interessa vedere. Tutto il resto è contorno che mi aiuta a contestualizzare. Questo è un chiaro esempio in cui sono presenti due punti focali. Due punti focali che in realtà possono essere uno a seconda di come lo osserviamo, cioè lo osserviamo nella sua totalità, oppure due uno in conseguenza all'altro, se prima notiamo un oggetto piuttosto che l'altro e questo dipende molto dall'osservatore, dalla scelta che fa l'osservatore. Una cosa fondamentale da tenere presente quando ci sono due punti focali, come in questo caso, cioè due oggetti ben distinti su cui puntare la nostra attenzione, sono le linee che conducono da un punto all'altro, sono delle linee visive, a volte sono delle linee materiche, che per esempio qui la mano del manichino che va leggermente verso la borsa e anche il posizionamento a triangolo, a base triangolare che abbiamo sul pavimento. Quindi c'è un punto di fuga che mette in relazione i due oggetti, i due prodotti, in questo caso il manichino e la borsa, proprio per permetterci di osservarli al meglio e di sentirli in relazione nonostante siano due cose diverse. I risultati che ho raccolto dal quiz e anche le risposte che mi avete dato, che mi avete scritto nel box, mi hanno fatto capire che c'è una confusione di base sul dove si possa posizionare il focal point all'interno della vetrina. Se la vostra vetrina è predisposta e si può creare un focal point centrale, va benissimo così, ma non c'è nessuna preclusione, ovvero si può creare il focal point dove si preferisce, soprattutto sulla base di dove passa la gente, quindi determinare se deve essere asimmetrico, oppure decidere che un giorno io voglio creare un'ambientazione talmente folle, talmente dinamica che il mio focal point potrà essere a terra, come a due metri di altezza, tre metri di altezza. La cosa importante è portare lo sguardo di chi osserva laddove io voglio concentrare l'attenzione, quindi guidarlo attraverso delle linee visive o materiche come vi ho mostrato. Adesso vi metto qualche esempio. Mi fermo con gli esempi perché è tardissimo e devo lavorare all'organizzazione dei retail safari che voglio fare a luglio a Roma, però vi dico anche che se avete trovato queste stories interessanti e vi siete accorti che vi manca qualche base, qualche fondamento del visual merchandising, vi ricordo che c'è online il videocorso che ho realizzato questo inverno, che si chiama BVM Essenziale, ve lo lascio in suoi pap, così se volete quel corso vi dà tutti gli elementi base e potete guardarlo alla vostra velocità, quindi imparare alla vostra velocità, ripetere, riguardare, insomma è molto molto comodo. Poi noi ci vediamo presto perché ho un sacco di novità da raccontarvi. Ciao! Ciao!